Konnichiwa e benvenuti al mio canale sono sempre Giappogamer ben ritrovati qui sulla demo di Shining Resonance Refrain e come potete vedere scritto sulla testa appunto demo version perché questo Shining Resonance Refrain a Daveni verrà pubblicato uscirà Paper Station 4, Xbox One e PC Steam il prossimo 10 luglio quindi ci manca ancora poco diciamo ma mi preneva portarvi questa demo e farvi conoscere questo Shining Resonance Refrain perché? Perché è un JRPG ah per chiuso parentesi JRPG significa un acronimo che significa Japan Root Play Game ovvero gioco di ruolo giapponese ennesimo gioco di ruolo giapponese ovviamente in Giappone ne producono Ayosa insomma ne producono ovviamente milioni e miliardi di giochi di ruolo giapponesi però questo Shining Resonance Refrain è un qualcosa comunque di particolare per tantissime ragioni il primo esempio è il gameplay ma prima ancora questa è la prima volta che un Shining viene pubblicato qui in Europa il primo Shining Resonance pubblicato per Paper Station 3 ma solo in Giappone per cui questa è la prima volta che esce fuori a confini giapponesi e mi preme veramente farvelo conoscere io ho avuto modo di conoscerlo in Giappone nell'ultimo mio viaggio addirittura nel 2006 ho portato, ho comprato l'ho avuto modo di aver comprato Shining X insomma un picchiaduro prodotto dalla Shining prodotto dalla SIG ovviamente ma col suffisso col nome Shining veramente insomma andate a vedere anche i video poi magari rimetterò come scheda uno dei video di gameplay comunque cosa di nuovo beh comunque insomma rispetto alla versione PS3 ha il Refrain Mode che sblocca la principessa imperiale che si chiama Excella e Ginas che è un altro membro e la cosa carina è che praticamente qui ci sono anche i draghi insomma c'è tutto un mix di roba molto molto carina a mio modo insomma questa Shining Reformation Merita di essere io giocato andiamo a vedere di cosa si tratta allora new game original ok original mode di te lo ha boy allora apperente questa racconta la storia dell'anima di un leggendario dragone che è praticamente fatta scrigno diciamo ad un ragazzo cioè quindi un ragazzo ha l'anima di un leggendario dragone e va bene questa storia praticamente racconta di questo ragazzo che è un ragazzo in realtà chiuso introverso che appunto racchiude dentro di sé questo grandissimo potere e vediamo un po' e facciamo standard va e vediamo un po' non so sinceramente quanto durà questa demo ma andiamo a scoprire insieme a vederla insieme e cala ok già la grafica mi pare buonina eh e cala e cala nemico all'attacco un dragoniere un dragoniere ok in inglese ovviamente parlato credo anche in giapponese ops uno moonlight overdrive eh overdrive mi pare no overture scusate qui è molto importante anche la musica insomma ci stanno musiche mistiche canzoni runiche insomma eh veramente oh ecco sogna va hanno creato una sorta di mix comunque particolare insomma tra musiche roba medievale dragoni insomma eh ok intrappolato in questo piano vabbè dobbiamo andare a liberare vabbè ok e cala in soldato e cala ok l'immunizione inizia ora bene così dai e vediamo un po' ok controlli in character se questo è il tutorial book ok you can move the character in dragoniere ok possiamo muovere il personaggio premendo L vabbè ok in the around camera la camera con R vabbè ok tipica ok vabbè tipico dei dei video dei giochi di ruolo giapponesi siamo nelle prigioni si dai grafica buonina ecco il primo soldato livello 2 ovviamente va affrontato vediamo un po' come funziona ma comunque completamente c'è un bel balcone a parte tutto vedete come i giapponesi ci tengono per le belle ghiandole mammarie delle donne potrebbe essere un rischio per la principessa vabbè in ogni caso io introdurre io sono sogna blanche sono un cavaliere di astoria dice sfortunatamente per te insomma un attimo di fretta per cui ok vediamo un po' normal attacks energy block ok by pressing performance serie di attacchi ok special attack buono così ok allora vediamo un po' sogna tutorial sogna fighter sword allora quindi combatte con spada e scudo ok vabbè e prendi questo qua così mazza quanto mina beh non male come action jrpg come ci separa però porca la miseria vai prendi questo qua ah ok vediamo un po' così grandissima mamma mia ah ok bene bene e i due soldati sono andati ok bisogna muoverci bene così ah c'è il risultato di battaglia bene 38 goldoni bene adesso stanno qua i nemici come potete vedere la mappa sulla destra e allora no quello facciamo così passiamo per di qua intanto abbiamo andato di là ecco la encounter vai prendi questo qua così allora con l1 vediamo un po' così grandissima mamma mia che pezza che pezza che gli ha dato questo è un attimo imbambolato va bene ok noi approfettiamo bene così ci sono ovviamente come in tutti i giochi di ruolo giapponesi punti vita e punti esperienza ok qua c'è un evento molto ben strutturato bene bene mi piace io non lo so se lo porterò sul canale questo jrpg fatemi sapere se vi può interessare che ragazzi i giochi di ruolo giapponesi sicuramente ne porto a milioni a miliardi sul canale mi domando quando li finirò prima o poi li finirò tutti quanti abbiate pazienza insomma tanta di roba ce n'è di roba giapponese ne porto oh questo ragazzo vi dicevo eh eh si che crudeltà eh già poraccio guardate come è ridotto gli aspettanti ti aiuto Yuma eccolo qua il ragazzo misterioso eccolo qua Yuma sei Yuma Ivern oh sei tu oh meno male io sono Sonia la cavaliera di Astoria la guerriera di Astoria insomma follow me seguimi dobbiamo per forza scappare prima che arrivano le guardie scappare scappare dove dobbiamo andare ma perché tu vuoi stare qua no sicuramente no però insomma sai con me vorrei sapere prima dove vorrei andare insomma non è che parto così no alla cazzo di cane dai come on let's go andiamo dai all right bene così non so esce il 10 luglio questo questo gioco di ruolo costeranno cinquantina di euro ve lo dico dici ok ecco la Soria di i soldati dobbiamo un attimo cercare un piano B ecco bene bene tu senti poi ecco appunto l'ho detto piano B infatti ma ecco la ci siamo imperiali eh porca la miseria già abbiamo scappare da un'altra parte forse sulla torre perché ha detto top allora vediamo un po' da dove gaspia si può passare ok forse gli alleati ci sono delle tecniche ok l'1 infatti l'avevo già l'avevo già utilizzato così a culo vai e prendi sta mazzata così vai prendi questo così ok bene così ok bene bene allora però di là poi c'è un soldato di livello 1 vabbè quello non è un problema però là poi è chiuso dove caspita passiamo per di qua va oh questo che d'è ha un 6 point un punto salvataggio bene così possiamo salvare i nostri progressi insomma questo è un classico gioirolo giapponese insomma non sto qui a raccontarvi più di tanto esaminiamo vabbè salviamo va non c'è mai vai new save ok e andiamo super di qua bene così ok che accade ma ci sta che è una bellissima luna piena un po' nebulosa però comunque bella grossa come luna ecco questo è il ma è la nostra uscita si giusto esattamente dice no non uscite dai dice ma ci sono le guardie come possiamo scappare come on dragonier hurry up dai dragoniere aiutaci e via un po' che accade oh beh un altro bel filmato no non è un filmato si no si è un filmato però una cutscene però ah c'è un altro personaggio kirika oh mmm dice ok sonia può essere già in posizione questo è il mio turno di combattere ok bene così e combattiamo va ok galeriz prison siamo sempre qua incoraggio amica mia ok i swarmen sono livello 2 vediamo un po' quindi cerchiamo di conoscere un po' tutto il party diciamo tutto il gruppo di persone ha detto ah alto là io sono il dragoniero wellant forse non ci conosciamo eh io ti ho solamente chiesto di passare lasciarmi passare detto no non essere ridicola cosa pensi che ci faccia qui insomma ah vuoi scegliere la violenza e violenza si eh è un po' come combatte oh vai di arpa grande kirika un'intrusa un'intrusa siamo sotto attacco allora kirika tutorial kirika is a dragoniera una dragonessa e e usa il suo koto no kagura che è una sorta diciamo di arpa mettiamola così arpa che in questo caso specifico dovrebbe essere un incrocio anche con un arco diciamo un arco arpa e vediamo un po' come combatte sono curioso ok choose the target premio in x vai così che lei utilizza il suo arco ok così 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 vai così grandissima ok vai prendi questo qua così prendete questo dai su fatemi passare dai ok bene così mazza che figata ok risultato kirika 108 buono direi uno dei più alti per il momento grande kirika bene così dice mi hanno abbandonato e beh fatti fuori insomma dovremmo andare al secondo piano va bene ok procediamo e vediamo un po' di raggiungere gli altri due eccoli qua infatti oh manco detto porca miseria yuma eccolo qua chi è questa voce ok yuma can you hear me puoi sentirmi si posso sentirti la situazione è un po' incasinata diciamo si lo so probabilmente mi hanno catturato sono stato catturato dice perché non hai tirato fuori non hai sguainato la tua spada tu hai tantissime capacità insomma per difenderti no no io non posso insomma dici vorrei tornare alla mia cella ha detto no non vuoi scappare si voglio però insomma un po' conturbato sto yuma cioè che caspia non vuole essere salvato dice no però dentro me mi sento un potere ci vorrebbe essere poter essere una sorta di esperimento addirittura sonia ehi stai bene non so più ma si era un attimo assentato ok dice che succede insomma ti sei perso un attimo per qualche secondo che è successo no niente dai le guardie eh insomma siamo un po' un attimo incasinati dobbiamo un attimo aspettare una mia amica cerchiamo di rimanere un attimo in salvo non ti preoccupare tranquilla non ti preoccupare tranquilla sonia ok io non sono miss chiami solo sonia ok ok sonia e calla il nostro Yuma si sente non tanto bene Yuma sta attento dietro di te Yuma are you truly satisfied Yuma sei veramente soddisfatto ecco notate come la battaglia interna interna per quanto riguarda Yuma avevo raccontato questo personaggio così un po' strano would you stand back e would you stand back quindi tu vuoi stare diciamo di fronte a tutti quanti senza senza combattere senza utilizzare una spada cosa vuoi dirmi dici tu sei potresti essere morto potresti essere uno spettatore insomma io ti chiedo cosa cosa vorresti fare insomma gli sta dicendo un po' tutti i colori eh dici dai insomma quando quando lei combatte tira fuori la spada non esitare e guarda insomma e watch dice no vabbè mi sento non è mi sento chissà quanto bene ma cosa vuoi supporre insomma cosa vuoi stare dicendo che posso usare qualche potere dice non è il mio potere tu comunque insomma puoi anche utilizzare la spada draw the sword eh infatti tu non hai tu non hai chiesto di avere questo potere non non desideri combattere per lei insomma con lei va bene dragone tu hai ragione io sono Yuma erede dell'anima del dragone valde orn dragon resonator oh grande vai utilizza il potere vai vai dici questo è il mio corpo e l'anima questo è il dragone incarnato adesso fammi vedere come combatte il drago resonatore valde orn sti nomi medievali oh ammazza che spadone porca ma che l'ammazza della chi berserk Yuma pure sono ci rimasta Sonia I can find tu posso combattere anche io ok Yuma tutorial allora via un po' come combatte Yuma vai vai così mamma mia che pezza allora vediamo un po' invece ok così vai vieni qua così va bene dai un'altra bottarella ok bene che è andato ok botta secca bene così grandissimo Yuma allora quindi Yuma e Sonia in tutte e due siete da tre soldoni va bene oddio chi è che canta questa questa canzone chi è che sta cantando eh appunto dice Sonia ecco alla la donna misteriosa ha detto chi è lei è porca miseria che dragone l'abbiamo qua non ho preso spunto ovunque da trono di spada eh dai su questi dragoni non me la cantate è giusta eh cari giapponesi della Siga dice uno dei dracomaccina dell'impero grazie Trisciula questa è Trisciula questa è la principessa dragoniera imperiale excella quello vi avevo raccontato all'inizio infatti di sicuro questo è l'unico drago dei tre insomma della principessa imperiale ma che ci fai qui in Alphime dice ho saputo che ci sta il cavaliere di Astoria e Yuma stai con me stai vicino a me e al mio segnale corri più veloce che puoi dai chiedeli in me ok ok eh Trisciula vai combatti sicuro Trisciula aspetta cosa? che succede? oh finalmente lei è qui vediamo un po' chi si unisce al party al gruppo oh un'altra canzone eh quella canzone qua eh vi ho detto lo scontro fra canzoni mistiche e rune mazza che spadone che c'hai oh ecco Kirika oh impressionante però brava brava stai combattere ehi Kirika cosa pensi di fare ecco Trisciula e tu un nuovo dimmi come ti chiami io sono Kirika Toa Alma dragoniera di Wellant diva magica ecco bene così e canzoni runiche dai dragoni oh dai sono sono felice che sei con noi bene così anche io insomma abbiamo combattuto contro questi dracomachina e contro i dragonieri dell'impero il mio nome il suo nome è Kirika e Carla che c'ha dice qualcosa non va no sto bene sto bene tranquilla ok questa è la mia diva magica originale dice fatemi vedere il vostro potere Trisciula Kirika possiamo affrontarlo questo dice sì ma dobbiamo insomma dobbiamo salvare shining dragon a tutti i costi eccola ok diciamo boss fight contro Trisciula allora break attacks forse ci sono vari attacchi gli attacchi che si possono diciamo lo spezza guardia il break attacks o gli attacchi e anche gli attacchi forti ok bene così allora possiamo ah ok bene you can see how close being broken target market ok quindi ci sono dei target dove possiamo dirigere i nostri i nostri colpi bene così perché comunque i dragoni possono essere comunque sono vulnerabili ok poi possiamo fare chain combo quindi le combo a catena bene così trisci comunque vulnerabile va bene ok boss battle è infatti che avevo detto io vai così vai attaccatelo attaccatelo vai così vai prendi questo così così vai così vai così oh porca puttana si sta incazzando per bene vai così ragazzi vai così vai così becchiamolo ecco alla come si cambia party come si cambia personaggio scusate occhio che si incazza ok vediamo un po' l'abbiamo beccato è andato e così parebbe ok bene così il risultato della battaglia boss fight yuma 252 sogna 252 kirika 0 non so per quale motivo va bene ok buono così vediamo un po' che succede dice avevo immaginato il potere del diva magico originale veramente impressionante dice eh potremmo comunque batterti ah sicuro cerchiamo di essere calma ecco vogliamo affrontare guardate che sguardo cattivo ok che è successo dice sei invitata nel mio combattimento kirika ecca io penso io no io penso io no ecca non ci posso muovere ecca 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 ti abbiamo battuto il tuo drago ammazzato non lo so sinceramente se tu credi di aver abbattuto trisciula ecco risa satanica gli dice non è divertente dice questo è solamente una piccola parte di quello che può fare trisciula dai vai coraggio mio dragone fai dire il tuo potere oddio ma che caspita ecco il potere della canzone mistica ecco trisciula mi sa è tornato in vita ecco alla dice quella resonanza quella armonica dice adesso l'hai visto dragon e armonica c'è un potere supremo insomma qualcosa di magico dice ecco beh adesso dobbiamo ribatterlo di nuovo dice voi siete veramente persistenti veramente ma non scordate che ci sono dei dettagli cruciali ci sono tre spears sotto il mio comando diciamo tre dragoni diciamo sotto il mio comando trisciula è uno di questi e calla ecco il secondo eppure il terzo porca la miseria ma che è qua ma veramente è trono di spade porca la miseria go andate e calla dice ma com'è che ero in comunque hanno ricordato questo ragazzo chi è in realtà ecco i soldi imperiali sua vostra altezza tutto a posto si stiamo bene stiamo bene oh per fortuna dai yuma dice non posso fermarmi io non vorrei scappare però comunque just stay away to stay in my cell vorrei tornare alla mia cella per stare in posto tranquillo tranquillo infatti perchè tu non fai ritorno alla tua prigione forse gli esperimenti continueranno ma riguardo le ragazze cosa cosa intendi dici tu hai rischiato di combattere contro l'impero comunque nonostante tutto insomma i soldati hanno utilizzato dunque di dracomacchina no dannazione hai la visione di chiedere il padone del dragone no non voglio utilizzarlo se tu ti rifiuderai questa è la tua scelta cosa faranno come finiranno quelle povere ragazze ci potrebbe fare la stessa tua fine Yuma no sicuramente no non posso abbandonarle oh cavolo che succede eh what is that che succede vai col tuo spadone vai con la tua magia ed eccolo il dragone di Yuma bello incazzoso bravo così gli dice impossibile quel ragazzo un dragone no non può essere quello ma era scomparso ma come può Yuma la tua radiance dici tu vuoi che lo facciamo bene vuoi che ti appunto cavalchiamo bene bene oh grandissimi scappano così grandi ok xela trisula gai bolg gugnir non lasciateli scappare hai tu comandi ok dice eh ma quello è shining dragon dice lui ci ha combattuto l'abbiamo combattuto nei fuochi di ragnarok ragnarok ma che ci sta pure tor qua dice ci dobbiamo preparare per combatterlo eh di shining dragon il potere è leggenda insomma dice ci può essere più grande di tutto il mondo dei dragoni dice no va bene ok io rinuncio al mio ordine non voglio rischiare non voglio rischiare di perdervi dice ammazza comunque non ho non potevo immaginare questa cosa la questione è dice ma quella è stata fortuna o che cosa sappiamo perché si si ok bene così shining resonance refrain ragnare Il nostro corso il nostro corso gratuito 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 Il nostro corso gratuito